ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube dopo aver visto ieri la review di devrai fekir e danny alves oggi torniamo con due giocatori che secondo me sono molto chiacchierati chi per alcuni motivi e chi per altri ovvero ramos e sancio secondo me su uno ci sono delle aspettative un po troppo alte poi andremo a vedere l'altro invece si è rivelato una piacevolissima sorpresa quindi mettetevi comodi e gustatevi questa review ma partiamo proprio da ramos che mi dava tante aspettative ma guardate qui si presenta subito con questa uscita a campo aperto con questa animazione un po' ambigua qui non mette il piede in maniera alquanto strana per un giocatore con la sua cpu e ancora una volta qui cicca completamente questo auto block in maniera totalmente folle poi ogni tanto se ne esce con queste giocate pazzesche in mezzo al campo se ne va con la skill boom tiro col piede debole all'incrocio senza alcun tipo di senso giocato sia da dc che da centrocampista qui lo vedete proprio in fase di impostazione da mediano e diciamo che palla al piede non è che proprio sua agilità ecco non è che presenta quelle caratteristiche tipiche dei centrocampisti box to box forti che ci sono adesso qui in difesa un'intercettazione diciamo abbastanza elementare qui avete visto come ha ciccato un'altra volta l'intervento su quel su quell'anticipo dove era perfettamente in traiettoria qui resiste in campo aperto in velocità con muriel recupera poi il pallone però avete visto con le due come il risultato poco reattivo qui ancora una volta non mi ha messo il piede in un intervento che doveva fare mentre qui ci fa vedere esattamente quello che è il suo punto forte no queste uscite in mezzo al campo guardate qua sia col contrasto che con la scivolata quindi io lo consiglio per chi difende tanto con giocatori aggressivi per andare a recuperare subito il pallone e in maniera manuale perché interventi automatici sì ma non ve ne aspettate tantissimi invece passiamo a sancio una piacevolissima sorpresa che guardate qui dentro l'area di rigore come controlla sta palla la tiene praticamente franco bollata qui con questo speed boost nel giro di una frazione di secondo va poi ad aggredire e scaricare questa conclusione precisa che nonostante la poca potenza tiro col timed un po si riesce a risolvere e va a segnare qui ancora una volta doppio speed boost avete visto come è andato via qua perfetto ancora in area di rigore con l'arrivo dopo la sua grandissima cavalcata e poi la finalizzazione ancora una volta solita giocata l'ho sfruttato sia da esterno che da punta e ha reso benissimo in entrambi i ruoli da punta in particolare giocato con micro movimento e giocate di fino secondo me vi fa molto divertire perché guardate come la tiene sempre franco bollata anche con le skill anche se su alcune in particolare l'elastico alla volta se la fa scappare un po troppo mentre su altre come il reverse elastico quindi skill tipiche no del giocatore bravo e abile a tenere la palla attaccata al piede vi vi dà soddisfazione ancora una volta guardate qua come si gira e si rigira su se stesso come come una trottola manda praticamente a far impazzire tutta la retroguardia avversaria qui vi metto questa clip perché guardate da punta come tiene benissimo la posizione senza finire in fuorigioco e poi si gira in un fazzoletto e scarica col piede debole che si dimostra molto 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 affidabile qui ancora una volta guardate come se la porta invece che sul destro sul sinistro e in sacca speed boost qui ancora in un fazzoletto poi carambola questo è un meme però lo speed boost è la cosa che voglio far vedere sto sancionamente mi è piaciuto tantissimo ragazzi dopo aver provato sia il capitano che sancio partiamo proprio dal difensore spagnolo del psg anche se penso che abbia fatto tre minuti questa stagione con la squadra francese allora per quanto riguarda la carta mi viene da dire che se la guardiamo così insomma tanta roba il 5 di skill non è che gli dà chissà quale mano e poi vedremo il perché veloce abbiamo visto pure insomma nonostante abbia 84 di accelerazione 82 di velocità scatto quindi non sia così rapido come altri non soffre troppo anche avversari molto più fast di lui passaggi devo dire molto discredi anche quando lo spostato da mediano si fa sentire come qualità di impostazione anche se body type un po importante da parte sua agilità equilibrio che non lo aiutano visto che anche 88 di forza e non vi state qua a pensare che costo 5 di skill fa miracoli quindi diciamo che io l'ho provato sia da dc che appunto da centrocampista arretrato e per quanto riguarda proprio quest'ultimo ruolo mi ha fatto vedere qualcosina però con tutte le alternative che ci sono a centrocampo un giocatore del genere che costa 600 mila crediti e che vi viene a costare poi anche l'impegno di dover mettere un altro giocatore in difesa non ne vale lo sbatti di sbloccarlo per metterlo per metterlo lì per quanto riguarda invece il ruolo di difensore centrale che diciamo è il suo ruolo naturale parliamone perché innanzitutto questo vi piace o comunque vi potrebbe piacere se siete amanti di una difesa molto aggressiva e manuale ok perché questo qua con l'aggressività che si ritrova e col work rate che si ritrova nel momento in cui si arriva più o meno sulla linea di centrocampo ha già fatto sei passi in avanti per andare a cercare di recuperare la palla alti ok questo non significa che poi una volta che si è alzato diventa totalmente inutile no perché qualche volta la palla il piede ce lo mette pure però se non siete abili a sfruttare quella situazione di gioco e recuperare palla in quel momento col fatto che lui che se ne è andato fuori posizione potreste un attimino andare in difficoltà infatti spesso e volentieri lo trovavate in giro infatti quando ci si ritrova poi a doversi schiacciare difendere la propria area di rigore cambia tante volte il ruolo alcune volte va a fare il terzino il terzino va a scalare al centro alle volte sta fuori dall'area di rigore perché dipende proprio da questa sua aggressività 94 il work rate che si sentono un botto capitolo difesa proprio effettivamente onestamente io non ho riscontrato questa questa efficace ed efficienza anche per quanto riguarda contrasti interventi automatici eccetera sì ce li ha sì ma è molto scostante cioè alle volte li fa alle volte non li fa alle volte perde contrasti alle volte non mette il piede in automatico dove dovete andare a schiacciare voi con il raddoppio si avvicina ma non affonda di testa si fa anche so per chiare da avversari che sono più bassi ma hanno un baricentro più piccolino e quindi hanno l'equilibrio migliore quindi onestamente sono rimasto un po deluso il costo è alto le alternative quest'anno ci sono c'è sicuramente è inferiore ai vari rudiger varan ruben diaz marquinhos probabilmente o lievemente meglio di kim bempe perché c'è un pizzico di cpu in più però mi aspettavo tanto da da sta carta e tanto non mi ha dato quindi io mi sento di sconsigliarlo non ve non me ne vogliate perché io poi già lo so che magari c'è qualcuno che l'ha sbloccato il suo giocatore preferito e dice no non capisci niente però sempre mi raccomando nei commenti siamo propositivi e parliamo delle cose senza sputare sentenze perché io in primis c'è questo è il mio parere personale sulla base di quello che è stato il mio test e di quello che mi ha fatto come sensazione sta carta parere totalmente opposto invece lo devo dare su sto sancio perché è una carta della madonna anche qua da specificare che si sposa molto bene perché ha uno stile di gioco basato tanto su speed boost e micro movimenti specie dentro l'aria l'ho giocato sia da esterno che da punta e in entrambi i ruoli mi ha fatto godere perché il 5 5 da esterno vi permette di poter rientrare fare quello che vi pare ha il finesse come tratto anche se un paio di volte nonostante abbia preso il verde non ha preso la porta però c'è anche da dire che l'avevo fatto con il piede debole quindi quel 5 sui tiri dalla distanza non incide tantissimo ma dentro l'aria regà questo è una roba no sense 95 di agilità 94 di equilibrio 90 di reattività molto veloce ha un tiro che ok ha quella potenza 82 ma se prendete i time ed tira delle saette è vero che alle volte magari si sente quello quello 82 un po neimaresco però ha fatto tanti gol e anche di qualità poi l'ho trovato proprio divertente da usare perché quella sua rapidità palla al piede vi fa venire proprio voglia di fare una skill in più di fare un tocco in più per mandare a vuoto l'avversario vi dà vi dà soddisfazione quindi è vero che il costo è elevato secondo me sugli 850 800 potrebbe essere un prezzo più che onesto però tanta roba c'è soprattutto calcolando quello che è il parterre di esterni che ci sono in in premier league io lo straconsiglio e a mani basse il migliore è probabile che lo vedremo anche in competitive nelle qualifiche che arriveranno tra poco perché può essere una validissima una validessima alternativa a giocatori che già ci sono una specie di messi possiamo dire così specie con lo speed boost che c'ha però con il 5 di skill e 5 di piede debole 5 di skill che va detto però non è il 5 di skill magari di un neymar perché su alcune tipo l'elastico la palla si allarga un po troppo dal piede mentre su altre come il reverse elastico la tiene franco bollata come la megidi cancellata si gira molto bene quindi a me ha fatto veramente una bellissima impressione e lo consiglio sia da esterno ma soprattutto da punta perché con quel 5 di piede debole fa i numeri anche per questo video è tutto raga fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate soprattutto del cap ramos che ahimè si è rivelato forse non proprio valido soprattutto in termini rapporto qualità prezzo e cosa ne pensate di sancio in descrizione vi ricordo come al solito tutti i vari link dei partner sempre della piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non è straga altro che augurarvi una buona giornata sono ad liberalski ciao 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 ciao